Analisi del voto inevitabile nei partiti dopo le elezioni, in attesa soprattutto dei ballottaggi dove ognuno punterà a fare il meglio. Qualche scaramuccia, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Mentre il presidente Marco Marsiglio ha sottolineato l'affermazione di Fratelli d'Italia, l'onorevole Antonio Martino di Forza Italia gli ha ricordato che se non ci fosse stato il suo partito, lui non sarebbe neanche stato eletto invitandolo a fare più il governatore. Ma a parte questo, la parola d'ordine per tutti deve essere unità. E la strada era comunque in salita perché molti comuni governi uscenti erano di centro-sinistra, come sottolinea il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Vincenzo Dincecco. La Lega credo che esca rafforzata perché in tre comuni, sopra i 15.000 abitanti dove si è votato quindi con il sistema a doppio turno, è il primo partito del centro-destra. E quindi rispetto al dato nazionale è evidente che in Abruzzo la coalizione è ancora a traino-Lega, in più come coalizione nel fare un quadro generale dei 5 comuni sopra i 15.000 abitanti, dobbiamo dire che è una soddisfazione che andiamo al ballottaggio in 4 comuni su 5, tenendo sempre presente che il dato di partenza era che in questi comuni, 5 anni fa, in nessuno di questi 5 comuni governava il centro-destra. Va aggiunta un'altra considerazione che non è dal mio punto di vista di poco conto, e che la Lega 5 anni fa non era presente in questa competizione elettorale. Quindi raccogliere questi numeri importanti, che sono anche sopra il target nazionale, sicuramente sopra il target centro-sud della Lega, quindi per noi è un motivo di soddisfazione e di orgoglio. Adesso aspettiamo e lavoriamo affinché questo secondo turno ci dia una risposta ancora più chiara e concreta. Il centro-destra è unito al di là della Lega? Il centro-destra è unito, è sempre unito, lo ha dimostrato in queste competizioni dove si è presentato con tutti i simboli di partito insieme, quindi da questo punto di vista non ci sono dubbi. È chiaro che poi in alcuni comuni ci sono anche delle coalizioni civiche che sono frutto di situazioni locali e territoriali, cosa che accade spesso in ogni competizione e questo vale per tutte le componenti politiche. Però la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sono state unite in tutte le competizioni, in tutti e cinque i comuni sopra i 15 mila abitanti. Questo è un dato ineluttabile, per cui non è controvertibile. Per il Carroccio il risultato è dunque buono e anche il coordinatore regionale Luigi Deramo ha fatto sapere che si sta già lavorando per vincerli i ballottaggi. Ad ogni modo anche per lui l'unità del centro-destra deve essere un valore imprescindibile.